Quando i soldati azerbaijani hanno riconquistato Fisuli, non hanno trovato un solo edificio in piedi su cui innalzare la loro bandiera. È rimasta in piedi solo la fragile facciata di questo ex centro culturale. Una volta densamente popolata e prospera, la città di Fisuli parte di vasti territori, controllati dalle forze armene intorno al Nagorno Karabakh, è stata saccheggiata e distrutta 27 anni fa. Ora, reclamata dalla natura, la città sembra il set di un film sull'apocalisse. Accompagnata dalle forze azzere, alla troupe di Euronews è stato permesso di spostarsi solo sulle strade principali. Al di fuori ci sono ancora mine dappertutto. Questa donna ha trovato ciò che restava della sua casa, ma non è riuscita ad avvicinarsi troppo. Quasi 30 anni fa, quando abbiamo lasciato questa casa, non era così. Non abbiamo preso niente, abbiamo lasciato tutto. Abbiamo chiuso la casa chiave pensando che saremmo tornati. Credo che con l'aiuto di Dio forse un giorno tornerai, filmerai la mia nuova casa che sarà costruita al posto di questa e vedrai la differenza. Nel corso degli anni le popolazioni civili di entrambe le parti hanno pagato un prezzo elevato al conflitto. Quest'ultima fiammata ha prodotto ancora una volta vincitori e vinti. Prima dell'occupazione Fisuli ospitava 100.000 persone, era una città prospera, ma tutto è stato raso al suolo. Ma, dice l'assistente del presidente Azzero, la Zerbaijan trasformerà la distruzione operata dagli armeni in ricostruzione e Fisuli sarà ancora una volta una prospera città della Zerbaijan. Decine di migliaia di rifugiati azzeri che chiamano questa città a casa sono ansiosi di tornare a ricostruirla. Emin Ibrahimov, Fisuli, Euronews.